Gentili telespettatori, buona giornata. Faccio questo breve video ma lo dovevo fare. Matteo Bassetti, quando non parla di medicina e di cose inerenti, dice di quelle cose, è ospite dalla Palombelli, in programma in televisione, stasera Italia su Rete4, e gli chiede, scusi Bassetti, ma un Presidente della Repubblica, patriota, come dice la Meloni, come dovrebbe essere? Lui dice, deve essere un italiano e deve amare l'Italia. Deve essere un italiano? Perché? Potrebbe essere anche svizzero? Potrebbe essere francese? Potrebbe essere cileno, peruviano, argentino? Bassetti, deve essere un italiano. E perché? Cosa vuol dire? Deve essere un italiano, perché può essere di un altro paese, il Presidente della Repubblica. Sante Romane Ecclesia. Arrivederci a tutti.